La campagna elettorale ad Avellino entra nel vivo con polemiche e scambi di accuse al vetriolo. Dino Preziosi questa mattina insieme al candidato Giovanni D'Ercole ha replicato a Luca Cipriano che in conferenza stampa aveva dichiarato che chi si candida contro De Luca condanna Avellino al suicidio politico perché i rubinetti saranno chiusi. Dire cose del genere non è che faccia tanto piacere, soprattutto da parte di chi si immola per essere eletto sindaco di una città. Rispetto a questo sarebbe, se lo ha detto, ma essendo virgolettato, infatti mi hanno fatto dire adesso sarebbe il caso che smentisse oppure dichiarasse chi effettivamente ha detto queste cose. Ed Ercole lancia un appello allo stesso De Luca affinché smentisca il candidato del PD. Un atteggiamento arrogante di utilizzo delle istituzioni. Noi non sappiamo, perché non eravamo presenti ovviamente, chi ha detto che la Regione chiuderà i rubinetti se il centrodestra dovesse vincere queste elezioni. In realtà non ci meravigliamo da chi si dice esperto di clientele e di fritture di pesce che vengano queste informazioni e questi modi di pensare. Noi abbiamo un altro stile. Se il candidato del PD, Luca Cipriano, non smentisce, non prende le distanze da quelli che sostengono questi sarà un pessimo candidato sindaco e quindi non sarà sindaco di Avellino almeno questo me lo auguro per la città di Avellino perché il vero suicidio a questo punto sarebbe avere un sindaco che non rispetta le istituzioni.